Ve l'ho detto cento volte. Quando si scattano fotografie in ambito professionale bisogna fare un lavoro a monte per contenere i livelli dei valori ISO in maniera tale da avere delle immagini pulite. Non andiamo a lavorare con gli ISO alti a livello professionale. Me l'avrete sentito dire un centinaio di volte, no? Eppure oggi sono qui a dirvi che è capitato anche a me di scattare con valori ISO molto alti e vi voglio raccontare perché e farvi vedere le immagini che ne sono derivate. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e anche oggi parliamo di fotografia e videomaking. Ci concentreremo sul lato fotografico anche se le cose che vi dico sono valide anche per quanto riguarda l'aspetto video. Vi invito anche a iscrivervi a questo canale perché se l'argomento trattato in questo video è di vostro interesse probabilmente troverete qualcos'altro di vostro interesse sempre sul mio canale. Lasciate anche un like a questo video così mi aiutate e non poco con l'algoritmo. Come sapete io ho fatto della battaglia agli ISO alti il mio standardo. Io continuo a ripetervi che professionalmente bisogna scattare in un certo modo, che bisogna lavorare per avere la massima qualità possibile, la massima gamma dinamica, che non bisogna introdurre rumore nelle nostre immagini, che bisogna lavorare in maniera tale da arrivare preparati allo shooting e quindi portarsi un treppiede se serve o delle luci supplementari se servono. Ma che cosa succede quando ci troviamo in un contesto dove non possiamo introdurre delle luci supplementari perché lo chiediamo e ci viene negato, non possiamo ingombrare la sala con la nostra strumentazione e non possiamo neanche utilizzare magari le nostre lenti più veloci perché abbiamo bisogno di un'ottica zoom perché è un contesto dinamico come un evento quindi abbiamo bisogno di un'ottica che nel migliore dei casi come nel mio era una 2.8 ma poteva anche essere una f4. Mentre sul secondo corpo macchina ovviamente gli eventi si va con almeno due corpi macchina perché non possiamo stare lì a perdere tempo a cambiare le lenti, ci perdiamo il clou dell'azione tutte le volte. Sul secondo corpo macchina abbiamo un teleobiettivo. Indispensabile avere almeno un grand'angolo che vada da un 24 mm fino a un 70-80 mm quindi un medio zoom che ci permette di fare un po' tutto ma avere anche un tele in maniera tale da poter fare dei bei ritratti da lontano. Ora io l'ho chiesto, credetemi, l'ho chiesto, posso mettere dei flash, posso installare delle cose strane, posso fare degli accrocchi? Mi hanno detto di no a tutto per una serie di motivi. Innanzitutto era un teatro quindi non c'era la possibilità di fare allestimenti strani. C'erano le luci del teatro però quello che succede è che tutte quante le persone che stanno a parlare sopra questo palco di teatro stanno un passo indietro perché non lo so forse per una disabitudine o forse semplicemente per una disattenzione oppure addirittura perché pensavano di sfuggire alla luce dei faretti che finisce negli occhi ed è molto fastidiosa ma stavano tutti un passo indietro per cui stavano tutti quanti nell'ombra, stavano sul palco ma avevano la luce fino alla vita e poi dalla vita in su erano completamente in ombra quindi condizioni di illuminazione veramente pessime. A questo punto io sapevo che mi sarei trovato di fronte a delle condizioni di illuminazione difficile e per l'occasione mi sono portato dietro Canon EOS 7D e Canon EOS 6D rispettivamente con il 100 mm 2.8 e con il 24 70 sempre 2.8. Sono due macchine diverse con due sensori diversi hanno una resa che non è stata completamente dissimile durante questa sera perché ho ottenuto risultati abbastanza omogenei da entrambe quindi stiamo parlando di due ottime fotocamere con una messa a fuoco abbastanza affidabile che mi ha permesso di portare a casa le immagini che volevo perché ho dovuto scattare a ISO così alti in fin dei conti c'era un po' di illuminazione non era sufficiente ma soprattutto in un contesto del genere per portarmi a casa le immagini senza micromosso quindi delle immagini giuste degli speaker delle persone che parlavano dei candidati ma senza micromosso dettato dal fatto che si muovevano sul palco quindi la mia impellenza era proprio quella di cristallizzare l'azione e porca miseria cristallizzare l'azione in un contesto senza luce senza flash è la cosa peggiore che possa succedere e quindi ricorro all'ultima cosa a cui avrei voluto ricorrere ovvero alzo gli ISO a dismisura per questo shooting vi posso dire che sono stato mediamente tra i 4000 e i 6400 ISO che è la massima sensibilità della 7D e adesso la 6D non mi ricordo se ha un'espansione in tal senso questa è veramente una svista da parte mia perdonatemi non me lo ricordo neanche ma il fatto è che non la uso non le uso le espansioni oltre a ISO a 6400 proprio mi rifiuto quindi non lo so neanche mi sono fermato a 6400 e andava comunque bene così perché così riuscivo a scattare a un duecentesimo di secondo ovviamente apertura massima o quasi f3.2 f2.8 e così avevo più o meno l'illuminazione che mi serviva è il massimo compromesso che io abbia mai fatto in vita mia credo perché anche quando scattavo le band musicali quando scattavo le serate al contrario di questo contesto le band soprattutto se sono ben grosse sanno benissimo che c'è un faretto uno spotlight che illumina la loro postazione e ci si mettono dentro e agitano i capelli al vento e fanno le smorfiette perché sanno che lì è il punto in cui devono stare per farsi fotografare per venire bene le band grosse le band piccole mi portavo il mio flash e non ho mai chiesto il permesso l'ho sempre usato senza dire niente a nessuno sparando dei lampi allucinanti in faccia a chitarristi e cantanti che mi avranno odiato però sono venuti bene in foto ecco che in un contesto in cui mi viene negato il permesso di usare flash ho dovuto ovviamente fare quello che potevo ovvero alzare gli ISO a dismisura vi faccio vedere i risultati dello shooting che sono comunque stati apprezzati e colgo anche l'occasione per contestualizzare un po questo evento non so se tutti quanti seguite la politica ma ci stiamo avvicinando a delle elezioni ora dovete sapere che quando si avvicinano le elezioni è molto probabile che ci sia un po la caccia al fotografo perché durante questi eventi serve un fotografo serve gente di esperienza che riesca a immortalare gli attimi salienti di questi eventi spesso e volentieri i fotografi sono sottopagati oppure sono amici di amici che vengono invitati a presenziare nel mio caso era proprio così io ero amico di amici che sono stato invitato a presenziare però sono anche stato pagato e anche discretamente quindi non ho assolutamente niente di cui lamentarmi ve lo racconto anche per dirvi che nel caso in cui vi stiate approcciando alla professione vi stiate domandando come poter fare per rientrare in un regime fiscale corretto per il tipo di lavoro che state facendo fisco zen potrebbe essere la soluzione migliore perché vi consente di avere un commercialista dedicato a vostra disposizione online in grado di rispondere a tutte le vostre domande e soprattutto vi mette a disposizione una persona che sia già esperta nel tipo di lavoro che voi state svolgendo quindi durante il primo colloquio conoscitivo che vi ricordo è gratuito si stabilisce che tipo di inquadramento fiscale può essere ideale per voi dopodiché se iniziate la collaborazione con fisco zen avrete una persona che vi segue passo passo e un portale dedicato con cui emettere le fatture e con cui verificare se i pagamenti sono stati effettuati e che vi tiene aggiornati sulle tasse da pagare nell'anno corrente e l'anno successivo quindi una piattaforma molto completa a parer mio è l'ideale per chi volesse muovere i primi passi in questo mondo anche per farsi un'idea perché appunto durante il colloquio conoscitivo è molto facile che vengano fuori i punti di forza e i punti deboli di quella che è la vostra attività ultima chicca cosa che non tutti sanno è che io stesso ho imparato solamente quest'anno durante la campagna elettorale per le attività inerenti alla campagna elettorale si paga solamente il 4 per cento di tasse su quello che ci viene corrisposto quindi se io vado a prendere 100 euro in teoria questo è ancora da verificare perché ancora non mi hanno pagato però in teoria se io chiedo 100 euro in teoria pago 4 euro di tasse che è veramente una figata perché mi consente di mettere le mani su quasi sul malloppo intero quasi sul mio sudato compenso intero quindi lavorare in campagna elettorale è molto vantaggioso sia per chi paga perché poi ci saranno degli sgravi che non voglio neanche sapere ma anche per chi fa il lavoro perché appunto si pagano meno tasse a questo punto parlando un attimo del post shooting è inutile che io vi dica che ho fatto una limitazione del rumore abbastanza prepotente in camera raw appena arrivato a casa quindi mi sono messo lì ho impostato i miei soliti preset per farmi tornare tutti i conti e per avere l'immagine come la voglio io ovviamente un po di gamma dinamica se n'è andata a quel paese ovviamente non avevo i colori a cui sono abituato perché alzando gli iso in quella maniera è normale la foto non è bella come avrebbe potuto essere se fosse stata illuminata in un altro modo però andando a sopprimere il rumore andando a recuperare un pochettino i dettagli in post produzione con un mix di preset che mi ero già fatto e di impostazioni ad hoc che ho fatto sul momento sono riuscito a recuperare delle immagini che non hanno sfigurato al momento della consegna infatti al momento della consegna nessuno mi ha detto mamma mia quanto rumore nessuno mi ha nemmeno detto cavolo ma che iso stavi scattando cioè da parte del cliente che le riceve non c'è proprio la percezione di quella cosa lì quindi quello che vi porto con questo video è anche proprio l'esperienza del feeling che c'è dall'altra parte quando tu consegni delle foto a un cliente un conto essesso un foto fatta in studio con i flash e tutto quanto lì se hai scattato iso 6400 c'hai dei problemi nella testa però quello è un altro discorso ma se è un evento tu consegni delle foto di un evento a un cliente hai scattato iso 6400 è veramente difficile che il cliente ti dica mamma mia quanto rumore per almeno due ottime ragioni la prima è che il cliente guarda solamente come è venuto sono venuto bene mi si vede il doppio mento stavo tenendo la testa indietro e mi si vede il doppio mento avevo l'occhio chiuso avevo la bocca strana il cliente guarda quello quello sta guardando sta guardando che aveva la pancia in fuori oppure si è riuscito a tenerla in dentro durante gli scatti sta guardando se si vede che stava guardando di sottecchi un'altra persona perché la voleva rimproverare per qualcosa che stava succedendo dietro le quinte quelle cose lì sta guardando il cliente sta guardando se era pettinato queste sono cose che il cliente sta guardando gli iso proprio non gliene frega niente e il secondo ottimo motivo è che comunque dovete considerare che il rumore si vede se io sto guardando la foto a 100 per cento se la sto guardando a 200 per cento allora ho la netta percezione della grana del rumore ma se io sto guardando la foto al 50 per cento oppure al 30 per cento oppure al 3 per cento perché quando è nel feed di instagram la foto è al 3 per cento circa lì il rumore è completamente andato non si vede più niente è impossibile rendersi conto da una foto piccola così nel feed di instagram se aveva del rumore oppure no per cui questo semplicemente per dirvi che nel momento in cui andiamo a realizzare un evento e dobbiamo scattare con gli iso più alti secondo me nel 2023 possiamo ormai farlo non dico a cuor leggero ma poco ci manca perché comunque sappiamo che la destinazione finale delle nostre foto 99 per cento delle volte non è un giornale non è una rivista un magazine non è la carta stampata saranno questi stramaledetti social e quindi sarà piccolissima il nostro servizio è completamente usa e getta infatti andate esattamente così le nostre foto vengono prese in carico il giorno stesso al massimo il giorno dopo vengono pubblicate sui social in questione del partito dei candidati eccetera eccetera e poi finiscono nel cestino della spazzatura e da lì non usciranno mai più fondamentalmente noi siamo stati pagati anche tanto per una cosa di cui poi il cliente ha usufruito solamente in minima parte su 800 foto della serata che gli abbiamo dato ne ha usate tre perché aveva fretta perché il giorno dopo ha già un altro evento e via si ricomincia e quelle foto lì non verranno mai più ripescate questo non fa altro che contribuire al fatto che un cliente che ha fretta non starà certo lì a guardare a che iso sono state scattate le foto proprio non gliene frega niente quello che gli interessa è solamente che siano venute bene che siano a fuoco e che siano più giuste possibile quindi ovviamente la cosa da evitare erano i micromossi in questo caso la cosa da evitare era di cannare le foto e cannare le foto in questo caso significava sbagliare l'esposizione quindi farle sovraesposte o sottoesposte soprattutto la cosa più importante era non cannare i tempi perché se avessi impostato dei tempi di scatto troppo lunghi sarebbero venute tutte con del micromosso dovuto al movimento delle persone in questione questa era la cosa in assoluto che volevo evitare in questi casi si deve ragionare così io voglio evitare il micromosso io voglio evitare che il cliente mi dica ma sono mosso ma quella non è la mia faccia ma sembro strano io questo volevo evitare il rumore non è proprio un problema in un contesto come questo amici dopo questa toccante testimonianza io mi rendo conto che ho dimenticato di invitarvi a iscrivervi al canale per cui lo faccio adesso il bottone è qui sotto lasciate anche un like a questo video così mi aiutate con l'algoritmo inoltre mi incoraggiate perché quando mi lasciate un commento gentile io sono sempre spronato a dare ancora di più e portarvi dei contenuti dove riusciate veramente a imparare qualcosa dalle mie esperienze sul campo in maniera tale che non rimanga sempre tutta teoria vi ricordo che chi volesse richiedere una consulenza gratuita a fisco zen può usufruire del mio codice sconto che trovate in descrizione con cui avrete lo sconto di 50 euro sul primo anno nel caso in cui decideste di abbonarvi e questo è tutto e io vi do appuntamento al prossimo video ciao ciao ciao